Ciao a tutti, siamo a giugno, ormai siamo qui a Porto Quattro in Sardegna, come sapete sono DJ nel cantina e qui farò il Cavalli a Porto Cervo e anche Pio Pizzo a Porto Pongo, però farò anche il mio tour estivo tra Miconosso e Salento, Sicilia, Ben DJ in tour, quindi farò la base a Porto Quattro e le staglieremo il cantino, però io vorrei parlare del mio disco che uscirà il 23 di giugno con Ego Label, Ben DJ Hold Tight, abbracciami forte oppure stringimi forte, uscirà, sono molto emozionato perché Think About, ho fatto 4 milioni su Spotify, ho fatto sentire questo disco a tanta gente del mio lavoro, DJ, radio, amici, amiche, tutti mi hanno detto un disco veramente molto estivo, il fischietto ti rimane in testa, spero che anche a voi vi piacerà, uscirà il 23 giugno, Ben DJ Hold Tight, grazie a tutti